finale dei 100 metri stile libero uomini ai tre giapponesi arai yusa e tagushi grandi specialisti del nuoto veloce l'america oppone il primatista mondiale peter pitt l'europa lungherese chic e il tedesco fisher gli italiani come si sa non hanno preso parte alla gara di nuoto ai 50 metri tre nuotatori si sono distaccati in primo piano lungherese chic al centro il campione americano peter pitt detentore del primato del mondo e in fondo il giapponese usa al centro l'americano a lunga ma usa e ci conservano il vantaggio l'ungherese vicino a noi lotta con tutta la sua energia produce l'ultimo sforzo e tocca la meta un attimo innanzi usa e arai un'altra cosa che si sa non è stata la sua un'altra cosa che si sa non è stata la sua l'unica Grazie. Grazie.